15.000 mi piace e già questo giovedì ore 14 uscirà il video dove proviamo il McDonald's in Egitto e vi ricordo che tra pochissimo c'è la vacanza dei Fantastici 4 200.000 iscritti uscirà il vlog della vacanza anzi come è il 15 agosto buon ferragosto a tutti ragazzi e adesso viaggoli signori e signore sono Luca Campolunghi è caldo ci troviamo nel deserto tra poco cosa succede? andiamo con i quad speriamo di non cadere qua c'è anche il nostro prego fatti pure vedere guardate com'è conciata Alice allora siamo andato nel deserto? nel deserto no con i quad si quad nel deserto? no che aspettative hai? sicuro farà caldo non abbiamo l'acqua neanche la crema solare è tornato il grande momo tra poco ci sarà la sua spiegazione eccola guarda che bella eccoci qui bella oh non ti riconosco neanche chi sei? sono acqua man guarda Robert che bello mamma mia sembra un po' un coglione un po' amore sei pronta? sono pronta fa caldissimo Robert e Rocco li abbiamo persi poi vediamo cosa ci dice il nostro momo adesso partiamo di qualcosa momo ciao Luca signori siamo pronti? cosa fa Robert? all'interno 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 amore mi sto bruciando il culo allora amore come ti sembra? mi sto bruciando il culo non è vero signori incredibile problemi tecnici vai momo vai vai guarda momo come supera tutto oh guardalo sono tornati oh paparazzati paparazzati oh 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 ciao ragazzi siamo qui a charme check facciamo un quad ho dovuto cambiare quad perchè mi è rimasto accelerato perchè solo che ce l'avevo aspettato a me ce l'ho fatto top ma si può? si va così un'impa cambia ma che sarebbe bello fare una gara i cammelli adesso ci siamo fermati si ma fa caldo e urla robert uno due tre ciao ciao no vogliamo di più signori più alto questa volta Italia 1 Italia 1 dici pronti 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 1 2 3 Italia 1 adesso possiamo scegliere un nome tra di noi chi vuole alza la mano scegliere un nome tra di noi scegliere un nome tra di noi una cosa da un nome tra di noi uno due tre Luca tutto un deserto Luca 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 questo si chiama l'eco delle voci siamo in una montagna dove senti tantissimo l'eco si però la casa è mia assistente tappa deserto robert guarda se non fai se non fai il figo non sei contento vuoi dire qualcosa ragazzi si riparte guarda la sabbia uuuu madonna eh signore signore arriviamo freddo me lo sento me lo sento venti 10, dentro, dentro Charles, dentro Charles, è un inferno Austin, dentro Charles, il predestinato vince, il Gran Premio d'Italia, e andiamo, vamo, vamo, bello Mohamed, prima volta in vita mia nel deserto, quindi italiani che guardate questo video, venite tutti a Charles and Shay, ciao belli, dovete finire qui per fare il quad, molto divertente, fate la motorata, cammelli, snorkele, grasi Mohamed, il barco naturale, è il giro in tutta la città, il mare bellissimo, il deserto bellissimo, divertente, il cibo dei beduini buonissimo, anche le guide, alle grandi, le guide bellissime, quanti mi piace devono lasciare, signori qui facciamo le snorkele nel bocco blu, quello di TAP, facciamo le snorkele in garage Mohamed, vi piacerà tanto, venite a lasciarmi scelte, ciao, quanti, quanti mi piace, quanti mi piace devono mettere, cosa, quanti, non ho capito, quanti like, 10.000, 20.000, 30.000, quanti, più di 30.000, siamo tornati nel villaggio, Alice qua dietro, Matteo e Rocco sono davanti di brutto, adesso andiamo in piscina, scrivete qui sotto nei commenti se siete mai stati nel deserto, no, non ho più l'età, scherzo, fa un caldo ragazzi, come accenni un movimento sud, ci sono 40 gradi come temperatura media, e niente, ci vediamo in piscina, piscina qua tutti, bella vita qua, piedi di Robert, piedi di Rocco, quanto li vendiamo? Mancino magico, Robert, un K, piedi di Rocco, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video, bravo Matteo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete, e vi ricordo che a 200.000 iscritti, vlog della vacanza dei Fantastici Quattro, che ormai è stato deciso, si farà a Porto Cervo in Sardegna, Robert, chi paga? Pago io! Pagni tu! Pago io? Pago io ragazzi, offro io? Ma fai tu! Sìì! Quindi chi paga? Pagno io! La prima volta che Luca paga, ma è scopondale, pago sempre! Ma non è vero! Ciao!